Allegra, ich bin Niccolo, mein Deutsch ist in Tessiner Deutsch. Ich bin Niccolo, ich bin Spazio 1929. Salut, Fabio, hallo, ich bin Fabio. Ciao, ich bin Fabio. Venite con noi, vi facciamo vedere lo Spazio 1929. Qui vivono degli artisti, cioè vivono a livello lavorativo, possono lavorare, ma allo stesso tempo possono affluire. Organizziamo concerti, eventi come quello di questa sera, organizziamo aste, conferenze. Ecco, qui troviamo delle scrivanie dedicate appunto al co-working. Penso che a Lugano, dopo aver visto tanto delle banche e del bel sole, abbia voglia di rilanciarsi con la cultura, con lo sport. Ma poi il sole c'è sempre, se cercate formagini, se cercate sole, qua c'è. Quello c'è, esatto. E non guasta, però è vero, anch'io sono stato via anni e anni, e tornando indietro mi sono accorto di tante cose nuove, tante belle idee, tante belle iniziative. E fa piacere.